Consiglio regionale straordinario sul bollo auto. Eliminate le agevolazioni per noleggio senza conducente. La legge è stata approvata con 22 voti a favore e 14 contrari. Spaccatura nella maggioranza con il voto contrario di Italia Viva. San Giovanni d'Asso il 12, 13 e 19, 20 novembre torna la mostra a mercato del tartufo delle crete senesi. Si tratta della 36esima edizione che animerà per due fine settimana l'antico borgo. Un consiglio regionale straordinario quello che si è svolto mercoledì 2 novembre. All'ordine del giorno le modifiche alla legge sulla tassa automobilistica regionale. La legge è stata approvata con 22 voti a favore e 14 contrari. Tra questi da segnalare il voto contrario di Italia Viva che ha ritirato la proposta di risoluzione ritenendo che sorpassare con un ordine del giorno una risoluzione di un alleato della maggioranza non sia politicamente corretto. Il bollo auto, precisa il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, resterà invariato per tutti i cittadini toscani. Cambierà invece qualcosa soltanto per gli utilizzatori dei mezzi a noleggio che a partire dal 1 gennaio 2023 dovranno pagare il bollo auto senza più avere le agevolazioni ottenute fino ad oggi. Ma si è arrivati al consiglio straordinario perché deve essere pubblicata la modifica perché entra in vigore dal 1 gennaio entro il 10 novembre con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione. Quindi oggi era il giorno utile per poter avere i tempi poi non solo di approvarlo ma di pubblicarla sul bollettino ufficiale della regione. Si è fatta molta agitazione su questo ma in realtà era una motivazione molto semplice, non c'era un'urgenza per accorciare i tempi del dibattito ma solo per quello che ci richiede la legge. Bollo auto per tutti i cittadini rimarrà per l'anno prossimo esattamente quello che è ora. La modifica va a incrementare invece il bollo auto degli utilizzatori dei mezzi a noleggio. Quindi una nicchia, una categoria molto precisa perché è cambiata la legge a livello nazionale invece che le imprese proprietarie dei mezzi che vengono messi a noleggio la pagheranno gli utilizzatori e conseguentemente se le imprese che pagavano bolli per migliaia di persone esisteva un'agevolazione che poi le teneva in Toscana altrimenti le agevolazioni magari le trovavano in altre regioni e quindi con un vantaggio da parte della regione nel momento in cui cambia la legge nazionale a pagare il bollo sono gli utilizzatori allora è giusto che paghino quanto pagano gli altri proprietari ovvero tutti i cittadini che hanno la loro auto quindi è stata semplicemente un'operazione di perequazione fiscale. La Toscana dunque approva la legge per eliminare le agevolazioni per il noleggio a lungo termine senza conducente resta sospeso il pagamento per i veicoli consegnati per la rivendita venduti o radiati formalizzata invece l'esenzione per le automediche al pari dei veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto lo conferma Giacomo Bugliani consigliere del PD e presidente della commissione affari istituzionali. Sono tre le novità che vengono introdotte nella disciplina del bollo auto la prima la più significativa in termini numerici riguarda il noleggio a lungo termine senza conducente nel 2013 erano state introdotte una serie di agevolazioni di riduzioni importanti per i proprietari dei veicoli a noleggio senza conducente queste agevolazioni vengono quindi eliminate con la legge che è stata oggi licenziata dal Consiglio regionale anche perché nel frattempo si era verificato un importante cambiamento ovvero quello per il quale l'imposta non deve più essere corrisposta dal proprietario del veicolo ma direttamente dall'utilizzatore. Pertanto si è stabilito che tutte le volte che vi sia un noleggio a lungo termine senza conducente e che l'utilizzatore abbia la residenza o la sede nel territorio della Toscana venga corrisposto analogamente a tutti gli altri proprietari di veicoli il bollo direttamente alla regione toscana. Dall'altra parte però c'è anche un altro importante cambiamento che riguarda le automediche non soltanto quindi le auto adibite ad ambulanza godono dell'esenzione dal bollo ma grazie a questa legge l'estensione viene fatta anche alle automediche e da ultimo si stabilisce l'effetto automatico della sospensione del pagamento del bollo al momento della trascrizione della cessione alle imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli. Quindi da una parte abbiamo 9 milioni e 200 mila euro di gettito in più sul bollo che vengono dall'applicazione del bollo anche alle auto che sono a noleggio senza conducente dall'altra però ci sono minori entrate ad esempio per l'estensione alle automediche o ancora per questo effetto sospensivo immediato per le imprese che sono deputate alla rivendita dei veicoli di 200 mila euro con un saldo quindi di 9 milioni di euro in più derivanti dal gettito del bollo auto. Contesta l'urgenza della convocazione del Consiglio regionale straordinario Francesco Torselli consigliere di Fratelli d'Italia che si sofferma anche sulle motivazioni di questa modifica normativa che porterà 9 milioni di euro in più nelle casse della regione da destinare al comparto della sanità. Dal primo di gennaio del 2023 professionisti, partite IVA, imprenditori cioè tutti coloro che utilizzano lo strumento del noleggio a lungo termine per la propria auto dovranno pagare il bollo auto. Questo è da una parte l'ennesima vessazione per categorie che negli ultimi anni hanno già pagato abbastanza alla situazione di crisi nazionale e internazionale dall'altra parte questo provvedimento porterà 9 milioni di euro in più nelle casse della sanità toscana perché così ha deciso la maggioranza. Noi abbiamo chiesto una cosa al governatore Gianni non ho ancora avuto risposta quindi la continuiamo a chiedere come mai questi 9 milioni per la sanità toscana servono urgentemente nel 2023? Cosa è successo nel 2022 di straordinario? Perché la legge che permetteva alle regioni di incassare questi 9 milioni è la legge di stabilità del governo del 2019 quindi la regione toscana avrebbe potuto incassare questi 9 milioni nel 2020, nel 2021 e nel 2022. La regione toscana ha rinunciato a incassare 27 milioni di euro in tre anni per incassarne 9 il prossimo anno quindi o quest'anno è successo un disastro oppure Gianni ha bruciato 27 milioni di euro per la sanità toscana. Passano anche 5 ordini del giorno collegati il primo affirma Elisa Tozzi, gruppo misto Toscana Domani che passa con 15 voti a favore e l'astenzione del gruppo PD e del Movimento 5 Stelle. Con questo atto di indirizzo si impegna il Presidente e la Giunta regionale a destinare le maggiori entrate all'erogazione di contributi per l'efficientamento energetico degli edifici e dei cicli produttivi delle aziende toscane anche mediante la costituzione di un apposito fondo di bilancio. Finalmente la Giunta è riuscita a chiarire quelle che erano le evidenti intenzioni ovvero quella di cercare di reperire delle risorse che andassero a colmare una lacuna della nostra sanità che pare oggi essere quasi un treno alla soglia del deragliamento. Quindi c'è una situazione sicuramente critica che oggi ha richiesto questo intervento straordinario. Dall'altro però sono molto soddisfatta perché di fronte a quella che sembrava essere quasi una destinazione definita, quasi inaspettatamente è stato approvato è passato al voto dell'Aula un nostro ordine del giorno che su quei 9 milioni finalmente cercava almeno di dare una risposta alle imprese. Ovvero prevedendo che queste risorse andassero ad essere destinate per quanto riguarda interventi strutturali per far fronte a Carobolletti o meglio all'efficientamento energetico degli edifici produttivi. A noi sembra che oggi siamo in una situazione in cui il sostegno alle attività produttive e quindi di conseguenza all'occupazione debba essere una priorità. Abbiamo come dire scansato che queste risorse fossero destinate poi integralmente invece alla sanità che già copre l'80% del bilancio regionale e noi non possiamo permetterci di mettere sulla spesa corrente altre risorse senza programmazione o almeno non solo senza programmazione ma anche senza vederci chiaro su quello che è il futuro del sistema sanitario. Oggi invece siamo riusciti a dare, grazie a questo ordine del giorno, anche un indirizzo specifico a sostegno del sistema produttivo. Io credo che sia davvero un segnale importante. Aggiungo che anche Italia Viva, componente della maggioranza, ha ritenuto di seguire questa nostra intenzione di dare una destinazione precisa a questo tesoretto di 9 milioni evidentemente registrando una maggioranza che su alcuni temi, come abbiamo già visto, ha delle spaccature. Quindi su questo c'è un tema politico che sicuramente si porrà con sempre maggiore insistenza anche in futuro. E proprio Stefano Scaramelli, consigliere d'Italia Viva, ha scelto di votare contro questa legge e chiede chiarezza su come verranno destinate le risorse che verranno recuperate. Ma Italia Viva ha votato contro questa legge perché riteniamo inopportuna un aumento delle tasse che non venga poi correlato a un'attribuzione di queste risorse che sono 9 milioni di euro a favore poi delle imprese, dei commercianti, degli artigiani, di colori che più di altri stanno soffrendo. E quindi noi avevamo detto fin della settimana scorso che eravamo disponibili ad aumentare questa tassazione solamente a una condizione. Quella condizione che queste risorse, siccome verranno pagate essenzialmente da libri professionisti, da artigiani, da imprese che molte volte hanno auto a noleggio, potessero poi essere restituite nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani che più di altri stanno soffrendo rispetto al caro bollette, al caro energia. Riteniamo che questo sia una cosa ingiusta. Non servono queste risorse per pagare il buco della sanità. Se questo c'è, deve essere spiegato se esiste o se non esiste. E quindi su questo ci chiediamo chiarezza. Ovviamente la maggioranza di governo è regione toscana e non siamo stati disponibili a cedere sui nostri valori, sui nostri principi. Insomma, si può perdere una battaglia in aula, ma non si può perdere la dignità. Quindi per noi questa imposizione fiscale non esiste perché altrimenti queste risorse andavano destinate, qualora si voleva aumentare le tasse, soltanto a favore delle imprese. Il secondo ordine del giorno approvato, anch'esso con l'astenzione del Partito Democratico, è stato presentato dalla Lega e impegna la Giunta regionale a prevedere, nella manovra di bilancio e legge finanziaria, uno specifico richiamo normativo per garantire a tutte le famiglie con disabili gravi, ancorché maggiorenni, con ISEE inferiore a 30.000 euro, un sostegno economico finanziario regionale, pari a 700 euro l'anno. Marco Casucci, consigliere della Lega. La Lega ha votato contro la proposta di legge del PD, non tanto perché eravamo contro a togliere il 10% di sconto per chi ha dei veicoli a noleggio, quanto piuttosto critichiamo e fortemente il metodo. Dubitiamo seriamente del carattere di urgenza di questo Consiglio, perché tutti sanno che entro il 10 di novembre eventuali modifiche sul bollo auto devono essere adottate dalle regioni. Quindi c'era tutto il tempo per intervenire e questo non è stato fatto. Siamo arrivati in fretta e furia ad approvare un provvedimento che non è chiaro neppure per quanto riguarda le fattispecie di riferimento. Noi abbiamo presentato un emendamento per dire se si tratta soltanto dei veicoli a noleggio a lungo termine, così come fa riferimento la normativa nazionale o anche a quelli a breve. C'è molta confusione, c'è anche divisione all'interno della maggioranza. Abbiamo visto Italia Viva che non è stata a votare questo provvedimento e consideriamo invece che la Lega è riuscita a far approvare un proprio ordine del giorno per il sostegno alle famiglie con minore a carico o con gravi disabilità. Questa è la Lega del fare. Noi cerchiamo di dare risposte e cerchiamo di analizzare compiutamente i provvedimenti che vengono da una giunta invece che è sempre più in stato di confusione. e la arroganza ha la meglio rispetto a quello che potrebbe essere il buonsenso, il dialogo con l'opposizione. Approvati a larga maggioranza due ordini del giorno del Movimento 5 Stelle. Prima firmataria, la capogruppo Irene Galletti. La regione toscana con un'urgenza che è tutta propria viene a chiedere a una nicchia di lavoratori 9 milioni di euro di risorse finanziarie che però non vuole dire dove saranno finalizzate. Quello che è il dubbio in questo momento è che si stia cercando di battere cassa più possibile per risolvere dei buchi di bilancio che in realtà come nodi al pettine arriveranno a dicembre quando saranno presentati i bilanci appunto e l'ipotesi al Consiglio regionale. Infine l'ordine del giorno del PD. Primo firmatario, il capogruppo Vincenzo Ceccarelli che impegna la Giunta a prevedere che i maggiori proventi derivanti dalla modifica della legge sulla tassa automobilistica siano destinati al rafforzamento territoriale del sistema sanitario regionale e per sostenere le misure per accrescere la protezione sociale dei cittadini toscani. In merito al voto contrario di Italia Viva il capogruppo del PD Ceccarelli parla di passaggio sufficientemente grave che il Presidente dovrà tenere in debito conto. Siccome la Giunta ci ha proposto un provvedimento che toglie uno sgravio che fino ad oggi esisteva per quanto riguarda il pagamento del bollo per i noleggi a lunga scadenza questo avviene in virtù della modifica della legge nazionale che fa pagare il bollo non più ai possessori delle auto ma agli utilizzatori delle auto noi abbiamo pensato di allegare un ordine del giorno al provvedimento che ci ha trovato favorevoli per quanto riguarda l'eventuale utilizzo nell'ambito del prossimo bilancio di queste risorse che verranno recuperate. Per noi è importante tenere ben presente avere priorità per quanto riguarda l'agenda sanitaria e per quanto riguarda l'agenda sociale della Regione. Le famiglie stanno soffrendo le persone sono in difficoltà la sanità toscana è la più pubblica che abbiamo in questo Paese siccome presumiamo che il governo non allocherà maggiori risorse tra l'altro per quanto riguarda la sanità almeno questo dalle prime dichiarazioni che sono state fatte noi pensiamo che mettere risorse per quanto riguarda il rafforzamento della sanità territoriale dei servizi rivolte alle persone più fragili per quanto riguarda il rafforzamento dell'agenda sociale sia dare riscontro a quelle che sono le maggiori esigenze e le maggiori emergenze che le fasce più deboli della popolazione stanno attraversando. Torna nei due weekend del 12-13 e 19-20 novembre la mostra mercato del tartufo delle crete senesi a San Giovanni d'Asso uno degli eventi più antichi a livello nazionale tra quelli dedicati al tartufo. A presentare l'evento in conferenza stampa sono stati il presidente e il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e Stefano Scaramelli. Saranno due weekend pieni di iniziative per far conoscere sempre di più la prelibatezza del tartufo bianco delle crete senesi. Saranno giorni importanti per la nostra regione sarà un momento in cui provare a tenere insieme la nostra idea di Toscana perché qui c'è tutto il buon tartufo nasce cresce di dove c'è un territorio salubre quindi consentitemi di dire grazie grazie al lavoro che ogni giorno viene svolto dai tanti tartufai grazie alla Proloco per organizzare questo evento grazie all'amministrazione comunale e saluto anche colgo l'occasione il neosenatore Silvio Franceschelli sindaco di Montalcino e credo che questo sia uno di quei momenti che portano il nome della Toscana fuori anche dalla nostra regione ed è bello sapere che tutto questo è possibile grazie all'impegno di tante donne e tanti uomini che portano diciamo con il loro lavoro portano in alto il nome della nostra regione. È un'eccellenza il tartufo bianco il diamante del nostro territorio che si ripropone che presenta e si presenta in grande stile a San Giovanni d'Asso ne fa elemento identitario della cittadina senese e nello stesso tempo riesce a promuovere se stesso Montalcino il connubio con il vino un'eccellenza unica nel suo genere un connubio particolare che ogni anno si rinnova e questo è il motivo per il quale il Consiglio regionale della Toscana sostiene e è al fianco di questa iniziativa che per la propria peculiarità di fatto è un unicum nel contesto toscano e nazionale La festa si terrà nel piccolo borgo medievale che circonda il castello di San Giovanni d'Asso dove nei sotterranei c'è il primo museo italiano dedicato al tartufo per vivere l'esperienza sensoriale e imparare a riconoscerne gli aromi sprigionati i tartufi bianchi vengono esclusivamente trovati dai tartufai affiliati all'associazione provinciale e il sabato sera dei due weekend il salone del castello diventerà la location di cene di gala con affermati chef stellati Nell'avvivo della mostra a mercato sono entrati Angelo Cosseddu presidente della municipalità di San Giovanni d'Asso Sergio Pinarello consigliere dell'associazione tartufai senesi e Pietro Beligni direttore artistico della festa Partiamo alla grande è un evento che è molto atteso diciamo dagli amanti culinari principalmente del nostro territorio metteremo in bella vista diciamo tutti i preziosi prodotti che ci sono nel nostro territorio come sapete noi abbiamo questo riconoscimento del distretto rurale di Montalcino e saranno diciamo i principi tutti i prodotti del territorio la collaborazione sarà con il consorzio del Brunello col consorzio dell'Orcia e ovviamente il principe sarà il tartufo bianco Noi siamo stati i primi a dire che facciamo la festa solamente con i tartufi che troviamo in zona quindi da noi non si trovano commercianti sono solamente i nostri tartufai che siamo circa 240 iscritti che portiamo i nostri tartufi che troviamo nel nostro terreno di tutta la provincia di Siena ci siamo concentrati soprattutto su quelle che sono la valorizzazione stessa del territorio la valorizzazione del prodotto tartufo portandola all'interno di due bellissime cene degustazioni e cene di gala che saranno fatte nelle sere del sabato e porteranno appunto delle grandissime innovazioni unite alla tradizione del territorio A presto a presto a presto a presto